Si dice che non avete un lavoro, non avete una moglie, non contribuite in alcun modo alla crescita dell'Italia fascista. Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino per il migliore attore. In Roma non si parla altro che di voi. Il nuovo film di Giorgio Diritti. L'Igabue non può non scuoterci, non convincerci. Elio Germano e Antonio Ligabue. Volevo nascondermi al cinema. Grazie. Grazie.